Sì, Gian, ora abbiamo il nome del semifinalista di Louis Vuitton Trophy, Dubai, B&W Oracle, che fa due settimane di raccogliere davvero bene. Qual è il tuo sentimento? Sì, abbiamo avuto due settimane, ovviamente, molti raccogliere, molto buona competizione fuori, sembrava che erano alcuni raccogliere, che potrebbero essere venuti in un po' e molti di noi, quindi siamo abbastanza fortunati. Se oggi sembra che il vento è andato un po' sul lato e la situazione era davvero strada. Oggi era davvero strada, con il vento più leggero, con la velocità in alto e in alto, quindi è stato un giorno difficile per leggere il vento per ragazzi come me che hanno bisogno di anticipare cosa il vento sarà. Ora cosa aspettate per la ultima parte del Louis Vuitton Trophy Dubai? Beh, c'è 4 buone squadre, quindi credo che sarà una semifinalista molto forte e poi spero che possiamo arrivare fino alla finale e vincere. Grazie mille. Allora, grazie. 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 Grazie.